Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti Buon inizio settimana cari telespettatori di Fano TV Come sempre sul canale 17 per la rassegna stampa del mattino Sono le 7.30 Allora cominciamo subito dal santo del giorno Oggi è il Beato Bonaventura Francescano Il sole è sorto alle 6.34 Tramonterà alle 17.10 Il tempo di oggi, vediamolo subito Intanto con questa fotografia scattata dalla nostra webcam Webcam con dati relativi anche alla giornata in tempo reale Perché vedete sono quelli che abbiamo appena scaricato alle 7.30 La temperatura è di 8 gradi, quasi 9 gradi L'umidità del 94% Non c'è vento, vedete 4.8 E quindi diciamo che la giornata non è ventosa rispetto a quelle che abbiamo avuto la settimana scorsa Andiamo sulla protezione civile, il sito della Regione Marche Per vedere il tempo che farà oggi e domani Oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso per nuvole stratificate medio-alte Con temperature in lieve aumento Eventi di bava di vento, quindi poco e niente Dai quadranti settentrionali il mare sarà quasi calmo Attenzione durante le ore notturne Al primo mattino alla formazione di foschie e locali banchi di nebbia nei fondovalle Per la giornata di domani, martedì 27 ottobre Più o meno la fotografia è la stessa Avremo cielo poco parzialmente nuvoloso Per nuvole stratiformi medio-alte In aumento poi nel pomeriggio Le temperature sono stazionari I venti di brezza leggera Il mare è quasi calmo Anche qui durante la notte e al mattino Presto ci sarà la possibilità di alcune foschie E locali banchi di nebbia nei fondovalle Dunque per i prossimi giorni Deboli condizioni di instabilità Soprattutto da mercoledì 28 e giovedì 29 Con probabile miglioramento invece per il fine settimana Lo sport naturalmente I giornali parlano anche del colpo di scena al Gran Premio Con Valentino Rossi Andremo a vedere poi quello che è successo a Tavuglia Insomma si parla di sport Tanto sport dicevo c'è anche il Fano Il Fano che ha pareggiato ieri in casa 0-0 Allora cominciamo dal Corriere Adriatico La pagina cittadina apre con il Carnevale Il Carnevale oggi c'è un incontro decisivo I carristi hanno ridotto il loro budget a 100.000 euro L'ipotesi di tre restyling con carri minori Sorcinelli, uno dei carristi, dice Il nostro auspicio è che ci sia spazio per tutte le maestranze Con la mediazione del sindaco Seri E un altro carrista dice Non possiamo fermarci per un anno Fermare per almeno un anno l'attività dei carristi Rischia di portare ad una perdita In una tradizione in cui la città ottiene risultati eccellenti Sotto invece 800 podisti alla gara in centro storico Successo di Fano Corre La competizione vinta da Gianmarco Ceresani Tra le donne prima la pesarese Barbara Cimarrusti L'altra pagina del Corriere Siamo a Pesaro Una tragedia che si è consumata in strada Shock ieri mattina nel quartiere di Loreto Per il dramma che si è trasformato presto in tragedia Che si è consumato sotto i portici Che si affacciano sul largo Madonna di Loreto Un uomo è stato stroncato da un malore Si tratta di Maurizio Di Maria 59 anni che poi è rovinato a terra Mentre era in sella alla sua bicicletta Il vice sindaco di Fossombrone diventa primario in ospedale Chiaramente è una battuta Quella che ha fatto Michele Chiarabilli Vice sindaco del comune di Fossombrone Che su Facebook ha scritto Se ne sentono dire di tutti i colori Sul futuro dell'ospedale di Fossombrone Che non mi meraviglierei Se qualcuno affermasse che il vice sindaco Sta per diventare primario Andiamo sull'altra pagina del Corriere Quella di Pesaro Spunta il quartiere della sostenibilità E il progetto per Via Toscana Ambiente, ricerca e innovazione Per recuperare 60 capannoni dismessi Una serie di bandi per start-up e nuove attività Mentre si preparano gli stati generali del turismo Servizio idrico a rischio, democrazia e rilievo pubblico Oggi c'è l'assemblea consortile del lato Il forum per i beni comuni Chiede di modificare alcune norme del regolamento Su voto e acque profonde Il sindaco di Fano favorevole Di inserire il no alla privatizzazione Appello di Fratelli d'Italia Stop al Partito Democratico La pagina di Senigallia invece Si occupa di un lutto in primo piano E' morto il farmacista Armando Avitabile Era stato vicepresidente dell'ordine di Ancona Autore di una delle prime leggi regionali Sulla turnazione Negozi, aperture serali anticipate Senigallia già si prepara per la notte shop Fissata il 28 novembre Che darà il via agli acquisti natalizi by night E poi le altre pagine Prima di passare allo sport Leggiamo quelle che riguardano il messaggero Sulla ZTL Sforbiciata ai permessi Il taglio riguarderà le autorizzazioni Rilasciate ad amministratori e dipendenti pubblici Potranno continuare a circolare Ma non più parcheggiare con la propria auto in centro Dunque per assessori, dirigenti comunali Personale della prefettura, delle scuole E degli altri enti pubblici Che gravitano attorno al centro storico E alla cintura della zona a traffico limitato La rivoluzione colpirà La rivoluzione nella ZTL colpirà anche loro A centro pagina vedete la fotografia di Valentino Rossi Fa cadere Marchez Polemica mondiale Il calcetto di Valentino Questo è il titolo Una manovra che divide Divide l'Italia Sportiva e non Con questa manovra Quella effettuata da Valentino Rossi Che ha steso Marchez a Sepang Naturalmente tanti servizi All'interno delle pagine Sia in nazionale E qualche richiamo anche sulle pagine locali Il caso Santa Marta Finisce in consiglio L'opposizione sta con gli studenti Depositata un'interrogazione Sostenuta anche dai familiari Degli alunni Comune e imprese Insieme per aiutare chi cerca un lavoro Consegnati gli attestati alle attività Che hanno ospitato i tirocinanti Di un progetto Ovviamente si riferisce al comune di Pesaro Andiamo sull'altra pagina Le pagine interne del messaggero Anche qui la cronaca Dramma Loreto Passeggia sotto i portici Viene stroncato da un infarto Di qua invece Sangalli Contento di festeggiare a Pesaro Luci e vetrine delle imprese del commercio Vedete Sangalli con Varotti E l'opera realizzata per celebrare I 70 anni appunto Della Confcommercio E' stata operata La donna colpita accidentalmente Da un colpo di pistola Partito dalla veretta Che stava maneggiando il marito Un imprenditore di 64 anni Elena Rocchetti 59 anni Ferita in pieno petto Da un colpo di pistola E' stata operata Restano gravi Le sue condizioni di salute Però insomma Lei è serena Cosciente E ha ribadito Ancora una volta Ai carabinieri Che il marito E' stato Che quel colpo E' stato accidentale Quindi che il marito Non c'entra nulla Tant'è che Insomma E' come potete Ben immaginare Insomma Non dispiaciuto Di più Che dispiaciuto I carabinieri hanno ricostruito La dinamica Lo sparo E' partito in modo accidentale Dalla pistola dell'uomo A 99 anni invece Questo signore Lo conosciamo benissimo Si tratta di Giuseppe Ottaviani Una vera e propria Leggenda vivente Dell'atletica Pensate A 99 anni Sale in cattedra All'università E' uno di quelli che ancora Corre e corre alla grande Apre il centro di aiuto Oggi alle 17 Nel centro di urno Per Alzheimer Margherita In zona aeroporto Apre il centro di auto mutuo Aiuto di Margherita Si chiama così Una delle iniziative collaterali Che stanno nascendo Attorno alla struttura sociale D'avanguardia Che da due anni La cooperativa Labyrintho Gestisce nella città di Fano Quindi oggi Appuntamento alle ore 17 A Marotta invece Il robot entra in classe Ed insegna agli alunni Lo farà all'istituto comprensivo Fadi Bruno Si chiama Nao E ha esordito In via sperimentale All'istituto appunto Fadi Bruno E ancora Sempre dai quotidiani Dei quotidiani locali Andiamo sulle pagine Del resto del Carlino Dicevamo Di questo moto mondiale Ai veleni Valentino La rabbia dei tifosi Siamo a Tavuglia Contro Marquez Al fan club A vedere la gara Che passerà la storia Ma A Valencia Dicono i suoi tifosi Deve andare a correre Perché Insomma Ieri A un certo punto è uscito Dicendo Non so se andrò A Valencia Il suo barbiere Il barbiere di Valentino Rossi Spero che a Valencia vada Non so che altro dire Che non sia sgradevole Claudio Mariotti Perché lo spagnolo Si è ostinato a gareggiare Contro Valentino Si domanda E mentre il padre Di Valentino Rossi Graziano Cosa accadrà in Spagna E' già successo tutto qui Ma l'ultima parola Dice il papà di Valentino Rossi L'ultima parola Non è detta Mentre a Gabice Gabice ricorda Il SIC Con una sua gigantografia Marco Simoncelli Il giovane pilota morto In un incidente motociclistico Il 23 ottobre del 2011 Lo fa con questa gigantografia Guardate la fotografia Eccola qua Ciao SIC La gigantografia All'Hotel Atlantic Andiamo sulle altre pagine Il mondo della sanità Sempre sul Carlino Azure Area Vasta 1 E qui la festa Tutti i redditi deluxe Dei medici La montare complessivo Delle retribuzioni E' stato di 33 milioni di euro La ventata di spending review Non ha colpito minimamente Una categoria I dipendenti sanitari Che vedono il reddito Invece in costante aumento E allora Sette mesi fa Dice il Carlino Scrive il Carlino Avevamo pubblicato I redditi 2014 Dei medici E dei dipendenti amministrativi Dell'area vasta numero 1 Li avevamo copiati Dal sito dell'ente Erano sbagliati O meglio Del tutto incompleti Non per colpa nostra Scrive il giornale E quindi ha dovuto fare Dei ritocchi Ma dei ritocchi Tutti a rialzo Ecco l'elenco Dei dipendenti Che hanno superato Nel 2014 100 mila euro Di reddito lordo E qui c'è tutto L'elenco Che potrete leggere Acquistando La copia Del resto del carino Di oggi In edicola Dunque L'altra pagina Quella di Fano Invece Sempre sulla cronaca Armava la pistola Per aspettare I ladri La vicenda di Marotta Il 64enne Che ha ferito la moglie Voleva portarsi La beretta Sul suo comodino Anche perché Soltanto il giorno prima Aveva sentito Aveva visto Aveva letto Che insomma A Cucurano Quei tre malviventi Erano entrati Di notte Nell'abitazione Di quel signore Quell'imprenditore Insomma Minacciandolo Con una pistola Di consegnargli Tutto quello Che aveva di prezioso Così ha fatto Con calma Lucidità Ha consegnato tutto Ecco forse Come dire Presi anche un po' Dall'emozione Da questo fatto emotivo Dalla paura Anche Di poter subire Una cosa del genere Avendo delle pistole in casa Aveva deciso Di armare questa pistola Secondo il resto del carlino Di armare Questa pistola Perché Non si sa mai E quindi Avendola Voleva tenerla A portata di mano Insomma Così Ha riferito La moglie Ai carabinieri Allora Andiamo adesso invece A guardare Velocemente Le pagine di sport Cominciamo Dalla Pagine Del calcio Naturalmente Cominciamo Dalla serie D Il calcio Il Fano Che è ancora Convalescente Non riesce A vincere Dopo le due Sconfitte consecutive La terza partita È un pareggio Un pareggio in casa Contro il Chieti Zero a zero I Granata Subiscono il Chieti Ma portano a casa Il punto Un solo tiro in porta E grossi rischi L'unica cosa positiva È diciamo Il risultato E l'unico a prendere Davvero Un punteggio Un voto Un voto Che sia Di sette e mezzo Insomma È il portierone Ginestra Che davvero Ieri ha salvato La grande La partita Gabellini dice Non abbiamo metabolizzato Le sconfitte Mentre l'allenatore Alessandrini Brava comunque la squadra A tamponare la ferita I ragazzi Hanno dato tutto La Vispesaro Invece La Vis Che vince Due a uno In casa Contro la fermana Costantino decide Il derby Dopo un ottimo Primo tempo Della fermana Pazzaglia Questa squadra Rimerita La categoria La VL Passiamo al basket Sempre da peso La VL rompe L'incantesimo Prima vittoria Sempre avanti Cristone e compagni Rischiano di nuovo La beffa Nel finale 68 e 63 Questo è il risultato finale Quindi vince La squadra pesarese Appunto 68 a 63 C'è l'ultima pagina Che riguarda invece E l'andiamo a prendere Dal Corriere Sport Al primo bivio Mai Cicero Siamo al volley Al primo bivio Mai Cicero Si perde Soverata Rischia Poi cambia marcia Mai Cicero Pesaro Zero Soverato Tre E questa era L'ultima notizia Della nostra Rassegna stampa Del lunedì Stasera c'è il telegiornale Occhio alla notizia Come sempre Vi ricordo Alle 20 e 30 Ma per tutti gli aggiornamenti In tempo reale C'è il nostro portale Occhio alla notizia Punto it Buona giornata a tutti Arrivederci C'è il nostro portale